Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze 6 km di coda per un veicolo in fiamme tra Montecatini e Pistoia con code in uscita a Montecatini provenendo da Pisa. Sempre in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra il vivio per la A12 e Capannori. Sulla A1 per lavori fino al 28 febbraio è chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sulla Fipili per traffico intenso in direzione Firenze e code tra Cascina e Pontedera Ovest Ponsacco. Infine ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali, catene o gomme termiche per la propria vettura. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!